Eccoci qua in diretta, buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro di oggi 11 settembre. Quali sono i temi fondamentali della giornata? Insomma, è presto detto perché è arrivato ieri la via libera definitivo al governo Conte e quindi Conte ha beccato la fiducia anche al Senato con i voti favorevoli ovviamente del PD, del Movimento 5 Stelle ma la cosa che secondo me ancora mi fa veramente sorridere, buongiorno Lucio, ciao Raffaella, Dago, Dino che sei arrivato lì la cosa che veramente mi fa impressione è che ieri i senatori a vita, le persone che rappresentano la Grande Repubblica che rappresentano il senso dello Stato eccetera, finalmente votano a favore di questo governo, cioè danno la fiducia a questo governo ma come questo è il governo del Movimento 5 Stelle, quello che voleva aprire il Parlamento come una scatoletta il problema quindi è che i 5 Stelle sono stati normalizzati, vanno bene per Monti la vera considerazione da fare oggi è che Monti vota la fiducia al governo di Conte è una cosa incredibile, ma non è incredibile per quella polemica che uno potrebbe fare, Monti come Conte sono tutte robe che dice Salvini vanno anche bene, ma la cosa incredibile è sostanzialmente come si siano istituzionalizzati i ragazzi, come li chiamava Grillo, del Movimento 5 Stelle fanno parte dell'establishment, cosa che non è riuscito a fare e in questo a peccato, non sto dando un giudizio positivo su questo a Salvini, se Salvini fosse stato più abile cioè meno di rottura, forse sarebbe riuscito a capire meglio che non gli avrebbero dato le elezioni detto questo non è una critica a Salvini, è semplicemente la situazione, l'Italia è l'establishment cinque senatori a vita che votano questo governo, è una roba che ti fa venire la pelle d'oca Monti vota per Conte, Monti vota per Di Maio, ministro degli esteri il Sole 24 Ore oggi titola, arriverà il 18 di settembre Macron a incontrare Conte Ma io mi chiedo, ma Macron lo sa che il ministro degli esteri italiano è proprio quel Di Maio che andrò a incontrare i gilet gialli a Parigi? Lo sa Macron che ci ha tirato via cosa che non succedeva dagli anni 50, dagli anni 40, anzi della guerra, che Conte ha portato, ha richiamato l'ambasciatore francese a Roma in patria per l'atteggiamento che aveva il governo Conte soltanto pochi mesi fa, questo lo sa se lo ricorda o non se lo ricorda, così come si ricordano che io ho la zuppa a quest'ora o no i miei amici, se lo ricordano o no, ragazzi io a quest'ora ho la zuppa, non mi chiamate, io poi magari posso sbagliare perché tengo la suoneria accesa, però vuol dire che non sono veramente amici se mi chiamano a quest'ora mettiamola così. L'altra questione che vi volevo ricordare di oggi oltre alla Francia che decide di venire finalmente in Italia, Monti che decide finalmente di votarlo, beh insomma la titolo più divertente forse è quello di Feltri, l'unto dei signori, l'unto dei signori, è diventato Conte. Per Feltri dice la sinistra poi alla fine se lo stritolerà ed è fuori di dubbio, io sono abbastanza convinto come Feltri che la sinistra utilizza l'utile, idiota, sempre stato così o per cercare di fare gli affari suoi, perché questi invece sono seri, cioè gente che negli ultimi 40 anni senza aver mai vinto le elezioni sono riusciti a comandare in questo paese. E dall'altra parte lo definisce più che un primo ministro un maggiordomo facile da ligenziare, ci va giù diciamo piano come sempre Vittorio Feltri oggi sul Libero. Mentre invece Franco sul Corriere della Sera si va ad occupare delle contraddizioni della Lega. Allora la Lega può avere tantissime contraddizioni, voglio dire questa crisi dell'8 agosto, l'ho appena detto, mi avete sentito, è piuttosto singolare, però se oggi io dovessi occuparmi delle contraddizioni di qualcuno non me ne occuperei tanto del leader della Lega che può aver commesso più che una contraddizione un gigantesco macroscopico errore, ma mi occuperei delle contraddizioni di uno che aveva alla sua destra, prima Salvini e oggi c'ha la Morgese, uno che era alleato con la Lega di Giorgetti e oggi è alleato con la Leu di Boldrini, con una che c'aveva il ministro degli esteri che andava a Parigi a far casino come Di Maio e oggi riceve Macron con il braccio destro Di Maio, ministro degli esteri. Ecco, se delle contraddizioni cari o Corriere della Sera le vogliamo trovare, e ci sarebbero in tutti, ci sono in me, in voi, in tutti avanti noi, forse più che in la Lega, che può essere cafona, può essere ignorante, può essere inopportuna, questi della destra non riescono mai a mettersi d'accordo, ieri e oggi i giornali parlano di tutte queste litiche che ci sarebbero tra Berlusconi e Lameloni, insomma, in questo clima incredibile, il problema sono le contraddizioni della Lega, beh, vale tutto a questo punto. Beh, ma vale tutto perché comunque c'è stato ieri uno scontro in aula tra Salvini e Conte durissimo, in cui Conte, e in questo devo dire la verità, c'ha ragione Michele Brambilla oggi sul quotidiano nazionale, deve un po' imparare però Salvini a rispondere ed uscire da questa impasse in cui si trova, è perché fare la crisi di governo, bene, andiamo a votare, non ci riesce, bene, facciamo l'opposizione, bene, mi nomini presidente del Consiglio di Maio, insomma, è difficile poi andare a seguire questa roba qua, l'opposizione si fa dura e pura, basta, dice Michele Brambilla, e ha perfettamente ragione, se volete fare l'opposizione fate l'opposizione, ma preparatevi per fare l'opposizione, con un linguaggio, con una strategia, e già qui, come abbiamo visto, il centrodestra non mi sembra così vicino, ma, vabbè, Barbara Spinelli, una donna che c'ha soltanto il cognome, beh, cosa riesce a dire Barbara Spinelli che oggi il problema è ancora Salvini e l'autoritarismo che abbiamo sventato grazie a lei, immagino, all'Europarlamento dove non si è neanche dimessa come aveva promesso per fare leggere quello dietro, vabbè, ma lasciamo perdere. L'altra grande ipocrisia della giornata è questa roba che riguarda Gentiloni, Gentiloni gli hanno fatto un pacco, avete presente il pacco, quello che in genere fanno i napoletani, quelli che non si possono definire napoletani perché è razzisto definire i napoletani, quello che fanno i romani, quello che fanno i milanesi bauscia, quelli che fanno gli italiani nei confronti dei tedeschi, va bene? Napoletani, milanesi, romani, italiani in genere vendono il pacco, Totò vende il Colosseo, no, sono loro che ci hanno venduto la Commissione Europea, perché ci hanno fatto capire che abbiamo preso l'importante dossier degli affari economici, ma non ci sono quelli finanziari, ma non c'è la vicepresidenza, ma bisogna essere coordinati col Falco Dombrovski, ma è la presidente che decide la revisione del patto di stabilità, sapete cos'è? Una presa per il culo, scusate la volgarità, ci sono dei ragazzini che mi sentono, oggi voglio salutare un bambino di 14 anni che ho incontrato a scuola, quindi accompagnavo i miei figli, mi ha detto che vede la zuppa di porro, quindi mi scuso per le parolacce in anticipo, però sappiate, bambini, ragazzi, adulti, che questa Commissione Europea ci ha dato un portafoglio che è meglio di quello che aveva preso il genio di Renzi con la Mogherini, una specie di inutile personaggio, tra l'altro deleterio per tutti. In questo caso però, quando leggi Bonanni, quando leggi i nostri giornalisti italiani, finalmente, oggi aspetta, mossa vincente, dice il Corriere della Sera, finalmente ritorniamo protagonisti, ma de che? Ci hanno dato un contentino, lituani, spagnoli, greci, a parte i francesi e i tedeschi, ci stanno facendo un mazzo così, anche colpo fosse passato del governo, ma questa roba qua, per la quale noi, con Conte, col Bisconte, avremmo trovato in Europa, finalmente, una nuova forza, è una stupidaggine. Quel dossier è molto meno importante di quanto era la precedente Commissione, con l'aggravante che il nostro Gentiloni, è un ex Presidente del Consiglio, quindi siamo stati ridicolizzati. Tra l'altro un ex Presidente del Consiglio, che chi lo conosce bene sa che di lavorare non gli va molto, quindi perfetto. Si trasferirà a Bruxelles, il Conte arriverà tranquillo, ha un bel biglietto da visita, i giornali italiani diranno che saremmo importantissimi su questo dossier, purtroppo non è questa la verità. Chiedesi, chiedere questa roba qua, vi consiglio, voi che lo conoscete, se c'è un pochino di establishment che mi ascolta, chiedetene a Enrico Letta, chiamate Enrico Letta, guardatelo, prendetevi un caffè al bar e gli chiedete, Enrico, com'è andato con questa Commissione? Vi spiegherà la presa per il culo nella quale siamo caduti. Ma tutti i giornali italiani finalmente all'Italia ha riconosciuto un nuovo ruolo. Detto questo, meglio di nulla, meglio insomma della Mogherini. L'ultima cosa che vi segnalo è un pezzo favoloso, ascoltatemi tutti, in questo momento dovete veramente ascoltarvi tutti. Questo pezzo è favoloso perché è una ricostruzione fatta dell'11 settembre, non dell'attentato le torri gemelle, di cui oggi nessuno celebra l'anniversario tragico, ma del 92, quando ci fu la speculazione contro la lira. Un pezzo favoloso di La Malfa ci dice che l'Italia aveva già impegnato 70 mila miliardi di lire per difendere La Lira dalla speculazione. Soros, quello che oggi intervista Repubblica, il grande finanziatore, quello che vuole è l'immigrazione, la persona per bene che tutti gli uomini per bene vogliono. Ma questo è un dettaglio, ovviamente la Malfa di questo dettaglio non se ne occupa, stavano combattendo contro la lira. Il motivo era ovvio, io cerco di vendere la lira, la lira si deprezza e quindi faccio un sacco di soldi. Questo era l'obiettivo della speculazione, ma la lira, racconta la Malfa, faceva parte di un sistema monetario europeo, di un serpentone europeo, di un accordo europeo, per cui tutte le banche europee avrebbero dovuto contrastare le vendite allo scoperto di Soros e compagni. Quindi c'era una solidarietà europea, francesi, tedeschi e italiani, le loro banche centrali, che all'epoca ancora esistevano perché erano 92, anche oggi esistono ma erano scollegate, dovevano difendere la lira. Era scritto nel patto della nascita della vecchia sistema di cambi fissi europei. In questo c'era un piccolo dettaglio che Ciampi, il grandissimo Ciampi, amato, il grandissimo amato, chi altro c'era? Barucci, il grandissimo Barucci. Tutti i grandi padri della Repubblica ignoravano. Così ignoravano? Che prima di entrare nell'accordo europeo, la Bundesbank, la banca centrale tedesca, aveva fatto una piccola nota e l'aveva mandata al cancelliere, al grandissimo cancelliere tedesco Schmidt, che ha detto noi col cavolo che aiutiamo i paesi comprando le loro valute. L'aveva detto molto prima del 92, nel 78, questo patto segreto, un patto osceno per cui loro vogliono fare il sistema monetario europeo, ma la loro banca centrale finge di partecipare alla difesa del coso, ma solo quando fa comodo a lei, non per difendere le altre valute. Questo patto segreto ci mette il cancelliere tedesco e dice stiamo zitti perché se esce sui giornali italiani o i giornali tedeschi ci fanno un mazzo così e non partecipano alla SME, ovviamente. Bene, questo patto segreto nel 92 si viene a scoprire perché il capo della Bundesbank chiama Ciampi e dice col cavolo che ti aiuto a difendere ancora la Lira. Quindi c'era l'accordo, ma la Bundesbank aveva detto al suo cancelliere dieci anni prima che non l'avrebbe rispettato, il cancelliere è stato zitto, quando c'è stata la prima crisi valutaria la Bundesbank ci ha fatto un culo così, ci ha mollato, traditori. Allora, quando noi pensiamo che l'Italia è l'Italia di Badoglio, l'Italia dei traditori, eccetera, e noi pensiamo che siamo i peracottari, pensate a queste due cose. 78, Bundesbank ci fotte, nel 92 ce ne accorgiamo, Commissione Europea ci spiegano che ci danno gli affari economici e non ci sono più i monetari e ci rifotte. Non bisogna essere bagnai, non bisogna essere, che te posso dire, Borghi, basta leggere oggi la Malfa che seriamente ci spiega come i tedeschi dal 78 in poi ci hanno fatto un mazzo così, non difendendoci e non essendo assolutamente solidari con noi. Leggete, vi prego, la Malfa oggi sul Corriere della Sera, questo non vuol dire uscire dall'euro, ma farsi un pochino furbi. Bene, io direi che per oggi è tutto, io vi consiglio però di andare sul mio sito in questo momento, perché ci sono moltissimi approfondimenti che continuate a perdervi, valgono otto volte tutto quello che possiamo dire nella zuppa e tutti i giornali, nicolaporro.it, mi raccomando, dopo la zuppa, ciao!